54 ore per trasformare un'idea in una nuova impresa. A Foggia in Camera di Commercio si sono dati appuntamento un centinaio di ragazzi tra informatici, creativi ed esperti di business per Startup Weekend. L'obiettivo è quello di presentare le proprie idee o anche solo mettere a disposizione competenze ed energie per fondare nuove imprese innovative, presentarle a una giuria di investitori ed esperti e lanciarle sul mercato. I ragazzi impareranno a formalizzare l'idea anche secondo criteri di business e quindi validarla l'idea e poi la presenteranno a una giuria che deciderà quali sono le idee più scalabili e replicabili. Abbiamo diversi premi, sono periodi di incubazione, la possibilità di partecipare a dei pitch con degli investitori di H-Farm che è uno dei più grandi incubatori mondiali. Le persone che andranno avanti avranno la possibilità di incontrare investitori importanti che potranno finanziare l'idea. Si tratta di un evento sempre molto atteso nelle community tech e Startup di tutto il mondo poiché è in grado di dare una scossa ad un territorio, fa nascere e consolidare, oltre alle singole iniziative imprenditoriali, un ecosistema che ne sostenga la nascita e l'evoluzione. Ci sono un sacco di ragazzi, in realtà qualsiasi fascia d'età, la cosa bella che abbiamo riscontrato è proprio questo, non c'è alcun limite, dai ragazzi di 18 anni fino alle persone più adulte sono venuti a mettersi in gioco e la cosa bella è vedere Foggia così attiva, così partecipe.